Per l'ennesima volta, come da vent'anni a questa parte, Regione Lombardia, presieduta dal leghista Roberto Maroni, stanzia dei soldi per salvare l'autodromo di Monza e soprattutto il Gran Premio d'Italia. A Roma, dopo cinque tentativi e dieci mesi a perdere tempo per colpa del governo sordo, è stato ratificato l'emendamento di defiscalizzazione. Il risultato è che all'autodromo di Monza, al Parco di Monza e alla Villa Reale arrivano i soldi necessari per mantenere, detenere, conservare nel nostro paese il Gran Premio d'Italia. Ancora una volta la Formula 1 e il Gran Premio d'Italia sono salvati dalla Lega Nord. Un grazie di cuore a Roberto Maroni e a tutti i comparti della Lega che ancora una volta hanno fatto la loro parte per la Formula 1.